Sicuramente è un gol importante in termini di immagine, di visibilità, di riconoscibilità di un territorio che purtroppo è a volte rimasto ai margini delle dinamiche nazionali e internazionali e che invece con il mister del nazionale, il commissario tecnico del nazionale Roberto Mancini può acquisire una visibilità e una riconoscibilità che sicuramente per noi è molto importante. Per questo voglio ringraziare Roberto Mancini per la sua disponibilità in un momento così importante e anche apicale della sua carriera che lo vedrà protagonista in questi prossimi campionati europei, nella National League, la qualificazione mondiale, quindi sfide importantissime e ha deciso in questo momento importante della sua carriera appunto di coniugarsi con la sua regione, è veramente qualcosa di importante per noi.